3-4 a 3, Redlock si prende, Jay Pada con tutta calma, Ficca, ha tutta birra, e si prende addirittura il tiro! Che ha fatto! Che ha fatto Ficca! Gira la lama. Ancora Zacchino per il lama, che è un buon tiro. Il lama, 20 secondi. Il lama, il tiro! Poi Lopez! E' il tiro la lama! 3-3 a 3! Ma che ha fatto? Il Toro! Un lasso! Incredibile. E allora vediamo adesso come fanno gli outsider. Matteucci! Ma che ha fatto? Anche per lui! E' il Pipe Leono! Il ricorda! E' un giocatore straordinario! L'ha chiusa lui! Santiago Matteucci! E' il 10! 6-3! Il ragazzo di Roma! Lascia andare il pallone per Ibrudi, che è a centrocampo. Eccolo qua, Funicoli, Zazà. Funicoli, grande giocata. Funicoli! Zazà! Abbiamo un nuovo giocatore fenomenale! Mamma mia ragazzi! Sembrava che stava cercando il passaggio, invece ci ha fregato tutti. Poi il nostro Insignia. Sesta e Fucina. Riparte Stojkovic. L'ha un po' troppo cercato qua, Pici. Un po' troppo per il teatro. Grande giocata di Lama! Mamma mia! 3-1! Il Lama! Che gol! 3-1! Ma perché lo metto anche l'ultima difficoltà. Attenzione parte Giulio Antonio Pici, preme R1 più veloce degli altri e ci arriva. Non è lui però. Attenzione. Concludiamo! Salvatore! Che gol! Salvatore! Salvatore! La Salamatra! Proprio lui! Che gol! Che gol! Mamma mia! Salvatore! Salvatore ha salvatore! Mamma mia! La granata! Oggi no. Mamma mia il prof. Quanto mi è mancato. Eccolo qua. Il prof scambia con Simone Crispo. Ti propone... Crispo! 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 Che gol! 1-0! Erda Crispo! 1-0! Ma scusa! Ma scusa! Ha iniziato! Non so Luca quanto manca la disattivazione! Attenzione! Attenzione! Il tacco! 2-0! Oragón! Ma che ventorale c'ha il Galan! Ma che ventorale c'ha! Fuori Falco la regala direttamente a Maui! Maui! Si gira Maui! Maui! Boom! 3-2! Proprio lui ragazzi! Il capitano morale! Degli outsider! Fa 3-2! Le aveva fermato! Giorentino sulla punizione ma qui non ha potuto fare niente! Guarda, guarda! Da puttlooker tipo! Chissà se ha la sua letta o no! Parte Andy Nain! Era un panna debole! Che panna debole! Colto il tebore! Ma non è vero! Non è vero! Colto il tebore! Ma cosa ho visto? Colto il tebore! 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 Con te parlo! Ti sei iscritto? Non ti sei iscritto? Complimenti! Uno fa queste cose qua gratuitamente, le mettiamo qua, anche gli highlights e non ti sei iscritto! Hai messo mi piace? Complimenti! Non ti sei… Ch 77